Aho, bella raga, eccoci qua tornati incredibilmente con un nuovo video, sono senza barba in questa intro ma nel video sarò con la barba quindi avrò 20 anni in più, ma fa niente, vi porto un altro wager da 50€ con me e Aldi contro due pro player che tra l'altro uno di loro due si è qualificato alla workup in solo, sono dei cooler per chi non li conosce, sono un team fortissimo su Fortnite si sta conosciuto, per 50€ ci hanno sfidato in live e non vi spoilerò nulla ma vedrete cosa facciamo contro di loro. Vi dico solo che i primi due round eravamo un po' impanicati perché comunque erano gente di alto calibro e poi però ci siamo ripresi alla grande e vi lascio al video, quindi buona visione raga, bella boys. JL, JL bro. Ma che figlia d'androcchia. Yo. Ed. Faccio Bellix? Capito? Sì. Stanno arrivando in due da te? Stanno arrivando in due da te? Mi ha letteralmente scitornato, mi ha letteralmente distrutto. Mi ha messo la scala girata. Pazzisco. Mi ha fatto. Hai visto cosa ha fatto? Mi ha girato la scala, l'ha rigirata e mi ha messo... Oddio. Oh mio Dio, se te li facevi così. Pazzio. Hai il pompa scarico? Hai fatto 120? No, intendo il primo, che ha sparato un po' dopo. 180. Mi sa che anche lui. Ok, non faccio più il Bellix perché sennò prendono mid. Ha girato la scala sette volte, impazzoso. Adesso non lo so. Dio a me? Come qua, eh? Ho tolto 89, tipo. 90. È tuo questo, a destra? No, occhio che non è tuo quello. Nato per cato, 140 in totale. Vado a fare il giro. So, mi vuole mettere. Messo la scala? Mi troppo? Eh, sono nel suo box, sono nel suo box. Arrivano in due. 91? Che palla. Eh? Quante cure hanno ancora? Ma quante cure hanno ancora? Ma mi aveva boxato. Eh, vecchio, mi aveva boxato. Ah, erano nella mia. Infatti ho detto, vado da dietro? E c'era quello lì, fermo. Mi sono... Mi ha messo la scala, mi sono calato e mi ha boxato. No? Posso buttarci? No. No. Oh, non aprirmi lì. Pazzisco. Guarda che non è mio quello. Vabbè, mi ripressano tutto. Per me è giocare in wager contro questi. Anche questo mi ha ripressato. Cento! È one hit, è one hit. Ha uno di vita. Arriva l'altro da dietro. Arriva l'altro da dietro. Che è l'altro da dietro. Cento, cento, tre tre. Ok, ci sono. Uno li ho tolto, 199. Sì, 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 sì. Io ci ho in tolto tre. È tuo. Spammo di AR. Sì, almeno spammare di AR. Occhio, occhio a quella sinistra. Occhio a quella sinistra. Ma raga, io... Ma, zio... Ma, ne è successo qualcosa di strano. Ne ho fatto cento? Poi ho sparato due colpi per, tipo, presciurarlo. Prima di andarmene e l'ho ucciso. Senza neanche guardare. Mi sono girato dall'altro... Ti giuro, non c'è la vita di nulla. Buon tappato. Ah! Sono morto. Sì, però raga, come ha fatto a mettermi il muro qua, lui? Non era mio quel muro, chat. Non era mio quel muro. Dove... Dove... Questa cosa non era capirà a me. Ecco, ha messo il muro... Proprio all'inizio. Il mio muro all'inizio. Io mi sono girato per andarmene della sua. Pazzesco, madonna mia. Come si fa a giocare a conficchiere questa cosa, zio? Sì, vabbè, ma devi ci spiegare. Tu mi hai detto buttati, eh? Mi stavo lanciando. Però se ti ha messo già un muro lì, non fanno. Non so se ti ha messo un muro. 110 a 1, 110 a 1. Ah no, HS1, 66, 66. Ok, un attimo, un attimo. Un pesce. Io non so dove sia l'altro. Ho un pesce, ho un pesce. Ok, ok, prendono il mid, hanno preso il mid. Vabbè, io sono una roba. 66? 66 al mio? 70, 170 al mio. Mi serve, mi serve... Io l'ho tolto, 110 e 66. Io 120 e 160. 35 white. No. Gli ho riusciuti un HP tutti e due. Eh, anche io ho fatto 110 e 66. 36 white. Anche tu non hai vita. Eh, lo so. Eh, lui ha meno viti di mancia. Che ti devi fare? Ah, non ho capito adesso. Non ho capito il problema. Morto uno, morto uno, c'è l'altro. Dove? Non so dove sia l'altro. Sapevo che era buon hit. Io tolto, 210 e 66. Sapevo che era buon hit. Mi sono lanciato questa box con la R. 170 e 32 nel box. Occhio che stanno sparando già. Ho preso tutto. Anche questo è il progetto. 33 a 1? Ma come ha fatto? Eh, 33. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Sto pindando di qua. Ma in questo mi replace, eh. Ecco qua. Mi ha più tutto a me? Sì, sì, anche a me. KENTO! Distrutto, distrutto! Oh mio Dio, che place! Non morire. Vai, vai, me ne vado, me ne vado. Mi ho fatto una place assurda. 47. KENTO! Mamma mia. Ciao lena, grazie per i tre mesi. Io l'ho troppo rilassato ultimamente. Sì, sì, dovevi vedermi prima. Gli ho messi, vecchio. Nel mio dato li ho messi. 71. E' 65, il mio. E' 65. Io l'ho troppo. Sì, il mio. oh io peso tutto il mid 67 ancora il mio il tuo chiuso il tuo chiuso è sceso infatti se sale se sale lo ammazzo io più che altro c'è l'altro riesci a partelo ma l'altro non lo vedo più uno lì ovviamente ora si lanciano in due ti serve il pesce ce l'ho e vieni io ho tolto 67 due volte 33 uno è qua uno è qua da me dimmi se ti pusho questo mi riplesso sicuro mi ha conato mi ha conato mi ha conato 100 morto aspetta 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 curati un sotto io va lui brava lo stiamo facendo guarda non giocando da dio stiamo giocando da dio gg 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 vinciamo questo please 37 33 odio l'ho ucciso l'ho ucciso ma non morire 100 no ardi sono troppo forte ardi quindi ardi sono troppo forte gt sono troppo forte ardi troppo 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 prost축 gg.ologica. Gigi Fusi